Carissimi, inizio questa trasmissione con una premessa per arrivare poi al cuore e vedrete che sono un ospite di tutto riguardo e di cui vi parlo dopo. Innanzitutto voglio dirvi che esiste sia nel momento sia nei giornali per questo fine settimana la colletta alimentare. Cosa vuol dire colletta alimentare? Vuol dire che chi va a far spesa normalmente può comprare qualcosa in aggiunta alla sua spesa normale che poi lo lascia perché la Caritas possa usufruirsene per dare da mangiare a chi è in difficoltà. O voi sapete che la Caritas fa centinaia e centinaia di pasti sia mezzogiorno che alla sera perché ormai la necessità di venire incontro a persone che sono in difficoltà alimentare sono parecchie. Quindi ricordatevi se potete domenica quando andate a fare la spesa o in questi giorni quando andate a fare la spesa potete aggiungere qualche cosa che sia di aiuto alla colletta alimentare. Però lasciate che io faccia un bel saluto a questa pupa qui che è una bambina che si chiama Isabel e perché lo faccio? Solo perché è sempre una bella realtà annunciare la nascita di un bambino o di una bambina ma Eleonora Garavini, la mamma di questa bambina, è la segretaria del momento, segretaria amministrativa e quella sulla quale si può contare per la continuità e la crescita della importanza che un giornale diocesano deve avere. Quindi complimento a Eleonora e quindi anche a suo marito Gianluca e un bacione alla Isabel. Ciò detto vengo a un'altra indicazione. Esiste alla Caritas di Pauli l'associazione Buon Samaritano alla quale tutti possono partecipare proprio come aiuto fattivo personale impegnandosi ad una testimonianza di vita. L'amore che si deve al proprio essere cristiani si traduce anche in opera buona che l'associazione Buon Samaritano indica nella modalità più semplice possibile. Chi vuole informazioni si porti alla Caritas e gli viene spiegato tutto, non solo dalla signora Pivi ma un po' da tutti. Bene, ci ho detto cosa faccio? Ho la gioia di presentarvi un caro amico bravissimo che si chiama Marco Viroli, eccolo qua, che è o mi ci vuole le litanie per dire tutti i suoi titoli perché è scrittore, giornalista, è storico, un quattrocentista. Quando volete sapere qualcosa della storia di Forlì o altro dovete con zelli parlare con Marco Viroli. Perché l'ho chiamato? Perché oggi 25 novembre è la festa di Santa Caterina d'Alessandria, da non confondersi con Caterina da Siena. Bene, Caterina d'Alessandria è la patrona di Bertinoro che era diocesi fino a poco tempo fa e adesso è unita come diocesi a Forlì. E allora io dico grazie Marco della disponibilità e della competenza con la quale tu ci vieni a parlare della Santa Caterina d'Alessandria patrona di Bertinoro. Sì, Santa Caterina d'Alessandria. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un grazie a Don Quinto e tutti i complimenti che mi ha fatto non sono necessari. Parliamo di Santa Caterina d'Alessandria che è stato invece un personaggio molto importante nel Medioevo e non solo, continua ad esserlo tuttora. È un personaggio di cui ci parla per la prima volta Jacopo d'Avarazze nella sua leggenda Aurea scritta tra il 1260 e il 1298. È una giovane egiziana vissuta alla fine del III secolo d.C., quindi tra il 287 e il 305 d.C. ovviamente. Questa giovane egiziana, una volta morto il padre, si converte al cristianesimo. E cosa fa? Cerca ovviamente di convertire anche le persone che le stanno intorno. Per questo l'imperatore romano, che qualcuno dice essere stato Massenzio, ma in realtà con ogni probabilità era Massimino D'Aia, molto meno conosciuto di Massenzio come nome, ma che era diventato imperatore d'Oriente in quell'anno lì, nel 305, proprio l'anno in cui Santa Caterina subì il martirio, la chiama a sé. Ecco, lei cosa fa? Cerca di convertire anche l'imperatore, è veramente sfacciata in questo. Per cui l'imperatore la mette in prigione e manda da lei un gruppo di filosofi, retori, insomma, che la devono convertire al paganesimo. Lei non fa altro che convertire anche i retori. I retori vengono uccisi per questo. Massenzio o Massimino D'Aia, l'imperatore, allora manda un generale, va a trovarla anche l'imperatrice, la moglie dell'imperatore, lei converte tutti. Il fascino di questa Caterina d'Alessandria è tale da essere entrato anche nei racconti così non troppo documentati e la sua immagine che si stacca da Caterina di Siena per il fatto di avere una ruota spezzata. La vediamo, abbiamo delle immagini che facciamo andare dalla regia di Santa Caterina d'Alessandria del Caravaggio, una delle immagini più famose, c'è la ruota dentata con la quale doveva subire il martirio, ma vedete che è spezzata la ruota dentata in un punto proprio perché gli angeli dal cielo scesero e spezzarono la ruota. Era un martirio terribile quello della ruota, si veniva legati sulla ruota, spezzate braccia e gambe, poi una seconda ruota dentata girava e tranciava le carni e i condannati morivano dissanguati, terribili. Però gli angeli vennero a salvare una Santa Caterina da questo martirio, che venne poi comunque uccisa dall'imperatore, fatta uccidere dall'imperatore con decapitazione. E qui la leggenda narra che dal corpo di Santa Caterina decapitata fluisse latte e non sangue. Il corpo di Santa Caterina poi fu portato sul Sinai dove venne costruito un monastero e poi la leggenda e la storia si combinano. Sopritte dalle parole di Marco Viroli che la figura di Santa Caterina d'Alessandria è così folcloristica, così bella, così piena di storie, da essere entrata in tante poesie, in tante modalità, che sono tipiche fino ad arrivare alla famosa festa del torrone, della quale adesso vi parla Marco. Sì, iconograficamente l'immagine di Santa Caterina possiamo vedere anche un quadro di Raffaello Sanzio che la raffigura sempre con a fianco la ruota dentata del supplizio. Eccola qua, la regia prontamente ce la fa vedere, ce la mostra. Addirittura Giovanna d'Arco, tra le voci che sentiva quando entrò nella trance mistica, c'era quella di Santa Caterina d'Alessandria. Detto questo diremo qualcosa della festa che si festeggia a Bertinolo, di cui Santa Caterina è patrona, ma è patrona anche di tante altre realtà cittadine piccole. Ricordo Cellino San Marco, per dire, forse è un paese che è noto perché è il paese di Albano, e lo era di Romina. A Forlì si festeggia nel quartiere di San Pietro, in particolare nel borgo di San Biagio, la festa di Santa Caterina. E questa è una festa che si perde nel tempo, le cui origini si perdono nel tempo. Dirò solo che Filippo Guarini, uno dei tanti cronisti che abbiamo avuto a Forlì, e che abbiamo avuto la fortuna di avere, perché Forlì è una città che si è sempre raccontata. Molto documentata, molto documentata. Filippo Guarini racconta e scriveva questo diario dove scriveva tutto quello che succedeva giorno per giorno nella nostra città a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Scrive il 25 novembre del 1882 Guarini. Grande concorso di devoti e curiosi alla chiesa di San Biagio in San Girolamo. Ove si è tenuta l'annuale festa e fiera di Santa Caterina. I banchi dei venditori di giocattoli, di fischi, di scaldini e di dolci sono frequentati assai. E si vede oggi da quella parte un insolito movimento. Perché il quartiere, io devo dire... Questa è la chiesa di San Biagio in San Girolamo. Prima del bombardamento del 10 dicembre del 1944. Quando la distrusse completamente. Questa immagine è tristissima. Perché si vede quello che resta della chiesa dopo il bombardamento. Tabula rasa. Io sono molto legato a queste immagini perché, lo dico tutte le volte, ho scritto anche nei libri, e mia mamma, 10 minuti prima del bombardamento, era dentro la chiesa. Si salvò proprio per miracolo, uscendo una bomba di quelle enormi. Forlì era già stata liberata, Don Quinto, da un mese e un giorno. Però davanti alla chiesa di San Biagio c'erano i mezzi militari degli alleati. E gli aerei tedeschi, una squadriglia di aerei tedeschi, venne dal nord. Centrò con una bomba enorme, perché i tedeschi usavano bombe enormi. Centrò, invece che i mezzi militari parcheggiati davanti, centrò la chiesa di San Biagio. E per Forlì fu un disastro. A parte le 20 vittime che causò, perché ci furono 20 morti, che troviamo elencati a fianco all'entrata della chiesa in una lapide. A parte le vittime, fu un danno a livello culturale enorme per la nostra città. Perché la chiesa di San Biagio in San Girolamo ospitava opere d'arte, alcune si sono fortunatamente salvate. Ma una in particolare, la Cappella Feo, con i dipinti, gli affreschi di Marco Palmezzano, su bozza di melozzo degli ambrogi, venne sbriciolata, completamente distrutta. Ed è stato un grave danno, proprio perché era un capolavoro da poterlo avere anche oggi, da presentare fra le altre cose molto belle che ha Forlì. Il capolavoro del Rinascimento Forlì. Scusate che mentre stiamo parlando, vi dico anche che il Vescovo di Forlì è anche Vescovo di Bertinoro e ha celebrato la messa con i sacerdoti che sono disponibili alla partecipazione, alla concelebrazione, proprio nel Duomo di Bertinoro, perché mentre prima diocesi di Bertinoro e diocesi di Forlì erano distaccate, ora sono unite e nella stessa persona del Vescovo ci sono i due titoli. Per cui la festa di Santa Caterina d'Alessandria, la cui festa patronale è Bertinoro, coinvolge comunque anche la liturgia della diocesi di Forlì. Ecco, in questa maniera abbiamo un coinvolgimento direi quasi folcloristico della bella figura di Santa Caterina, che viene a entrare nella storia, nella poesia, nei racconti che si fanno di questa ragazza meravigliosa che ha vissuto con fortezza la sua fede fino a convertire quelli che erano delegati al suo martirio. Esatto, questo fece Santa Caterina e rimane fortemente questa figura nella storia e addirittura è patrona di, abbiamo detto, una trentina di categorie, tra cui naturalmente le spose, gli studenti, gli studiosi, ma per dire le sarte in Francia, le sartine che stanno imparando il mestiere, si chiamano Caterinette. In Piemonte, a Torino, le giovani da sposa si chiamano Caterinette ed entrambe un tempo si facevano queste feste di, per il ballo delle debuttanti, ecco, chiamiamolo così, queste Caterinette andavano alla ricerca dei giovani uomini che le potevano sposare. Questo ovviamente accadeva anche alla fiera di Santa Caterina a Forlì, dove c'erano le ragazze che studiavano al collegio delle Dorotee, poco distante in Via dei Mille, che il giorno della festa, guidate dalle suorine, andavano a girare per le bancarelle che offrivano appunto la merce per l'acquisto. E da lontano i ragazzi le guardavano, le rimiravano, lanciavano occhiate complici, ecco, però c'era la suorina che controllava. E cosa vendevano queste bancarelle che erano e sono tuttora alla fiera di Forlì? Vendevano allora dei carrettini di legno, dei cavallucci e dei sommarelli in carta pesta, poi vendevano le famose catereni, le catereni erano le bamboline, ecco, qui vediamo, ve lo dico subito, lascia queste immagini, le catereni a Forlì erano delle bamboline di pezza che appunto venivano vendute al giorno di Santa Caterina. A Ravenna, lo vediamo in questa immagine, le caterine sono dei biscotti a forma di bambola che vengono donate alle bambine, mentre vediamo sempre nell'immagine più in alto il galletto, è il biscotto per i maschi, la bambolina per le femmine e il galletto per i maschi. Poi c'erano, e ci sono tuttora i galletti e i fischietti di zucchero e il torrone, il torrone che invece era ed è destinato alle spose, sì, alle belle spose, ma a tutte le spose perché le spose sono belle tutte, ecco. Allora, io ringrazio… Posso dire una cosa, se no me la dimentico, oggi ha un'importanza doppia la festa di Santa Caterina, oggi 25 novembre, perché è la festa, cioè la festa, è la giornata contro la violenza sulle donne. Ecco, questa è l'ultima coincidenza con questa festività, ecco, però io vorrei dire attenzione che mentre ne parliamo così in maniera molto leggera di questa Santa, è però un grosso personaggio che, indipendentemente dall'esegesi e dalla sua vita, lascia un insegnamento e dà una modalità di testimonianza del Vangelo molto forte, tant'è che lei è presentata sempre con lo strumento del suo martirio, ma è quella che è riuscita a vincere il progetto dell'imperatore e di quelli che andavano contro, perché aveva in sé la coscienza della sua missione e della vita consacrata. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi dobbiamo ringraziare il cielo che non solo Bertinoro ha finalmente anche un suo parroco in continuità alla figura di Don Pazzi, Don Luigi Pazzi, sapete che era parroco a Bertinoro, il fondatore della Casa della Carità, e oggi ha Don Emanuele Lorusso che continua in questo impegno. Ecco, voi vedete qui alle mie spalle la colonna dell'ospitalità, perché Bertinoro è famoso anche per questo aspetto qui dell'ospitalità. E tra parentesi notate che, cavami Gianluca, guardate che il comune è molto bello, ha una facciata tutta merlata, molto bella, ma la cattedrale di Forlì non ha la facciata, cioè è schiacciata là in fondo, ma la cattedrale c'è, quello è il campanile della cattedrale di Bertinoro, dove anche io ho passato cinque anni perché c'era il seminario una volta e mi ricordo quando uscivamo dal seminario per il passeggio, eravamo una bella fila, che poi se uscivamo tutti e tre le camerate, piccoli, mezzani e grandi, assieme arrivavamo quasi alla cattedrale, pur rimanendo in fila due per due, e i tempi sono cambiati. Però, ecco, quello che deve rimanere impegno di coscienza è l'essere chiesa oggi, e la chiesa di Bertinoro è unita con il vescovo nell'unica diocesi di Forlì-Bertinoro, il clero si suddivide a secondo delle necessità di apostolato e di pastoralità, e a noi, ecco, la risposta che non sia semplicemente un fatto folcloristico, ma che sia un sì che nasce dalla consapevolezza del proprio impegno. Parleremo più avanti, ecco, nelle altre trasmissioni dell'impegno necessario oggi nell'essere cristiani, perché quello che dice Papa Francesco è un impegno che va evidenziato con la gioia, ma anche con la coerenza, tenendo conto dei tempi che cambiano, ma delle necessità sempre importanti della gioia del Vangelo. Marco, io ti ringrazio molto dell'aiuto che mi hai dato, perché hai tirato fuori un sacco di belle notizie. Ma ce ne sarebbe un'altra, ma vogliamo dire, bisogna ricordare anche quelle che sono le tradizioni popolari. Le tradizioni, esatto. Allora, mi scuserete perché quando io parlo in dialetto tanti ridono, però c'è un proverbio che dice Par Santa Caterena, o che piovo, che neva, o che brena, o che tira la curena, o cui è la paciarena. Quindi è il quadro completo di quello che può succedere nel periodo invernale. Inizia l'inverno, il 25 novembre, e questa giornata appunto aveva questo significato per i nostri nonni, per i nostri bisnonni, per i nostri antenati. Era l'inizio ufficiale dell'inverno, si poteva accendere il camino e la stufa nelle scuole e negli uffici pubblici, dalla data, prima no, dal 25 novembre in avanti. Io, mi si permette anche questa piccola concomitanza analogia tra la festa di Santa Caterina e il giorno del ringraziamento anglosassone, che capitano sempre più o meno nello stesso periodo. E quindi anche questo, secondo me, è una casualità che ha radici, bisognerebbe andarle a cercare molto, molto nel tempo lontano. Però non è un caso che si festeggi. Oggi poi c'è la coincidenza della giornata mondiale… La giornata mondiale contro la violenza sulle donne, di qualsiasi tipo, ragazze, mogli. La parola femminicidio, che a me non piace come parola, ma inquadra benissimo quello che è un… Un dramma. Un dramma, che non sembra calare, anzi, addirittura purtroppo sembra crescere di giorno in giorno. È costante, purtroppo c'è una statistica tragica delle morti violente che le donne devono subire, e quello che è più tragico anche dal fatto che non sono casi sporadici, ma nascono in casa. Cioè, normalmente, chi è autore di questa tragedia è l'uomo amato, è l'uomo che aveva prima una confidenza anche matrimoniale. Vabbè, cerchiamo di fare in modo che la nostra vita sia il più possibile pagina di Vangelo, cioè capacità di gioia nella situazione di oggi che richiede una fisionomia gioiosa, dice il Papa, della testimonianza del Vangelo. Marco, continua col tuo lavoro di storico, di giornalista, di quattrocentista soprattutto, ecco, ma anche di oggi, e grazie dell'aiuto che mi hai dato, e a tutti dico che ci vediamo alla prossima puntata di Duc in Altum. Grazie a tutti. Grazie a tutti.